quello che volevamo fare è un film comico assolutamente comico Antonio Albanese torna al cinema con il parrucchino, le giacche improbabili e soprattutto il proclama politico di Cettola Qualunque il nuovo film del quale si sono concluse le riprese sul lago di Fogliano è Tutto tutto niente niente e sarà sul grande schermo a Natale Qualunque niente è andato molto bene però noi io al mio pubblico che io reputo sacro noi dobbiamo dare sempre qualcosa di più, ci proviamo almeno, dobbiamo comunque tentare cercando, e l'ho notato con qualunque mente, di focalizzare l'attenzione su certe tematiche ridendo e in questo noi cercheremo di far ridere ancora di più perché mi piace Il regista, come per qualunque mente, è Giulio Manfredonia nel cast entrano Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino e Paolo Villaggio nel ruolo di un comico genovese, pensate un po', presidente del Consiglio e con Cetto stavolta ci saranno anche Frengo e Favaretto, altri personaggi di Albanese che con il Cetto corrotto faranno un percorso comune, dal carcere al Parlamento